Gesù risorto dirà agli Apostoli Come il Padre ha mandato me così anch'io mando voi Andate dunque e ammaestrate tutte le nazioni E oggi Gesù ci diceva chi accoglie voi accoglie me e chi accoglie me accoglie il Padre che mi ha mandato Ecco ognuno di noi può fare qualcosa per annunciare e testimoniare il Vangelo Alle persone che ci sono accanto, ai nostri familiari, ai nostri parenti, ai nostri amici Alle persone con le quali conviviamo quotidianamente Ma anche ai lontani attraverso la preghiera e l'offerta dei nostri sacrifici Perché il Vangelo possa aprirsi un varco anche nei cuori più induriti, nei cuori più restii E perché il Vangelo e la luce del Vangelo possa illuminare tutte le genti Sia lodato Gesù Cristo